Quattro cavalieri accolgono Monsignor Bregantini all'ingresso del paese. Uno di loro scende da cavallo, si slaccia in mantello e lo offre all'arcivescovo, così come San Martino fece nel 300 d.C., quando, trovandosi davanti ad un povero seminudo, non esitò a tagliare in due il drappo distintivo dei cavalieri dell'esercito romano. Così Campo di Pietra ricorda il suo santo patrono, in maniera solenne, con la presenza di padre Giancarlo che ha trascorso l'intera mattinata in paese, non solo celebrando messa, ma incontrando le autorità, le associazioni attive in paese, la gente comune. Quel tagliare il mantello e darlo ai poveri, infreddoliti, ha creato poi questa bellissima tradizione del sole, della condivisione di un cuore che riscalda il cuore dell'altro nella freddezza gelida dell'egoismo e entra la carità con la sua luce, con il suo calore, con la forza dell'amore che riscalda e cambia i cuori. Ecco, questo è il messaggio, non tenere le cose per sé, ma condividerle. E proprio la condivisione è stato il tema centrale della giornata, così come lo fu per San Martino, una volta lasciata l'uniforme da ufficiale e diventato religioso. Su questi temi ha posto l'accento Don Saverio di Tommaso, parroco di Campo di Pietra. La cosa importante è che le associazioni, il popolo ha capito che deve aprire il proprio cuore in modo particolare per l'accoglienza di tantissime povertà e quindi dopo c'è la busta, dopo c'è il dono delle cose materiali, anche queste indispensabili ovviamente. In paese sono state organizzate, nell'arco di due giorni, una serie di iniziative dedicate a San Martino. Oltre alle celebrazioni solenni, anche momenti di festa a base di castagne e novello, realizzati però con sobrietà e confini solidali, così come l'offerta di dolci fatti in casa da tante donne del paese in favore della Caritas diocesana. È il volto più sincero di una comunità cresciuta nel corso dei decenni, in cui man mano si sono integrate centinaia di persone provenienti da tutta l'area circostante. La riscoperta di San Martino è stata per noi un aspetto fondamentale della nostra attività amministrativa, perché cadendo in un periodo un po' particolare, in un periodo di novembre, insomma, si era persa un po' questa tradizione per strada. Merito nostro e dell'Associazione della Parrocchia aver riscoperto questa giornata. Sempre nella linea della solidarietà, anche la scelta di uno spettacolo pomeridiano affidato ai ragazzi delle scuole del paese. Chiesa Stracolma, mentre piccoli artisti cantano, recitano, ballano alcune composizioni che, democraticamente, hanno scelto attraverso una sorta di selezione, sperimentando il confronto come elemento positivo di condivisione.